Il visitatore del Museo Civico Carlo Verri di Biassono ha la possibilità di sviluppare ricerche storiche su un tema che è assolutamente pertinente alla storia del luogo, cioè la agricoltura. Carlo Verri, della famiglia Verri, era uno studioso di agricoltura e proponeva anche sistemi di coltivazione innovativi. Appunto sulla sua memoria qualche tempo fa controllavo la collezione di aratri che abbiamo in museo. Forse faremo una mostra. E rimasi colpito da un fatto. Gli aratri presentati, gli antichi aratri, erano presenti anche su alcune monete, alcune monete molto più antiche, di 2000-2200 anni fa. E penso che il cultore di storia possa essere molto interessato a verificare, a sapere che cosa poteva significare collocare la rappresentazione dell'aratro su una moneta. Tra l'altro era collocato solo anche con moneta italiana, della Repubblica Italiana qualche tempo fa, l'aratro. L'aratro infatti è un elemento simbolico di grandissima importanza. Ma giungiamo alla moneta che è esposta e che il visitatore potrà vedere e valutare. Si tratta di una moneta in rame, bronzo, di lega di rame, quindi bronzo, molto antica, della città di Obulco, un'antica città ispanica nella penisola spagnola, in Andalusia, abitata da popolazioni che noi definiamo iberiche, che erano organizzate con città indipendenti e ciascuna di queste città e metteva monete e sulle monete praticamente poneva delle immagini simboliche della sua natura, della sua attività, dei suoi dei, della sua produzione anche e in questo caso della sua produzione agricola. Erano culture di agricoltori ma che facevano anche il mestiere della guerra. E per inquadrare l'epoca e il tempo in cui nacque questa moneta ricorderò che dopo la prima guerra punica vinta dai Romani nel 241 avanti Cristo, Cartagine conquistò gran parte della Spagna e durante la seconda guerra punica Annibale giunse dal 218 avanti Cristo in poi in Italia con ausiliari, con alleati iberici e forse c'era anche qualche abitante di questa città di Obulco che quindi probabilmente è stato anche dalle nostre parti. Ma durante la seconda guerra punica i Romani, mentre combattevano Annibale in casa loro, cacciavano i cartaginesi dalla Spagna e conquistarono la Spagna e conquistarono anche la città di Obulco che divenne poi una città importante romana, fu base per le campagne di Giulio Cesare un secolo dopo, nel primo secolo avanti Cristo, a un anfiteatro e uno scavo visitabile con cose importanti da vedere. Ma arriviamo alla moneta. È una moneta di 5-6 grammi, peso variabile per queste monete, e ha sul diritto una testa con il nome della città Obulco. Di chi è la testa? Beh, chiaramente è simbolica della città e soprattutto simbolica, rappresenta Dio protettore della città, su questo non c'è alcun dubbio. Ma le cose più interessanti sono su Rovescio, dove abbiamo tre campi, tre settori, uno centrale, uno superiore e uno inferiore. Su quello superiore abbiamo un aratro, tra l'altro disegnato molto bene, con molta precisione, un aratro primitivo. Adesso si potrebbe fare un lungo discorso sugli aratri, lo faremo con la mostra qui a Biasono. Un aratro primitivo presentato senza il traino, senza i buoi che dovevano trascinarlo. Un aratro diremmo in riposo. In basso abbiamo una grande spiga di grano. E vi è evidentemente tutta la vicenda della coltivazione del grano. Coltivazione del grano che assicurava la sopravvivenza della comunità. E al centro cosa abbiamo? Al centro abbiamo il campo. Abbiamo due righe scritte con una tecnica di scrittura che noi indichiamo come su rotaia. Cioè le lettere sono tra due linee continue. E così come si presentano sulla moneta, beh, è chiaro, sono i solchi dell'aratro. E dei solchi dell'aratro sorgono le lettere con il nome del governante in quel momento. Un nome romano, scritto in caratteri iberici però, un nome romano di un governatore della città. Il discorso è simbolico a questo punto. L'aratro a che cosa serve? Serve ad incidere la superficie del suolo. E sotto la superficie che cosa si ha? Beh, si ha l'inferno volendo, si hanno le energie del mondo. Al di sotto della superficie è il luogo dove noi depositiamo le cose morte che si ricaricano, ritrovano l'energia vitale ed escono, in questo caso, come grano. Ma i cittadini di Obulco vogliono dirci anche che sono loro ad uscire dalla profondità della loro terra. E loro sono legati al loro territorio, al loro luogo, così come è legato al loro luogo la messe che tutte le primavere usciva per mantenere la comunità.